ma quanto ha scusate ma quanto ha il quello la 51.000 no non posso pushare questa combo non la posso pushare andassiamo itm il premio attualmente è di ora ve lo dico se ce la faccio questa la pushiamo di noto stai lì stai lì che mi serve ancora stai lì che non è finito questo torneo è fluido 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 ci siamo ok abbiamo double lappato a questo torneo che è bello ok ok così ok così va bene così ragazzi va bene così ragazzi è che poi rannasso tutto alla fine ma sarebbe rannasso uno 11 di 12 push perché magari loro 33 lo foldano l'ho così ok è andata in basso a sinistra se già è controtto x moda non penso che abbia un range di fold ma ci sta potrebbe essere che ci abbiamo un minimo di fold equity no però ci ho di donato con me ci ho di donato con me che è lì con la sua birrettina con la sua birrettina e beve tranquillo e mi guarda ho fatto un accordo con rie tornato fu di tavola scippato al 109 infatti non te ne andare stai lì con la tua birrettina ma ancora di che spot parli questo qui che avevo 9 blind al quello che avevo 9 blind e l'ho aperto 2 per al 109 io ho una regola di donato e che ne è questa la regola quando io chiamerei il suo push o lin se lo mi fa 2 per push o io è una regola che non ti sbagli mai alle volte te lo fanno con roba che che non ha senso comunque se ti sei sempre stai lì che questa mano la bisogna la vincere avevo 9 blind capito non è che posso folda tutto se c'ha meglio di me pace lo stesso si esce tanto se foldo che faccio arrivo 11esimo nono è lo stesso no almeno così magari devo anche sculare però c'è la possibilità che vado in su si è quella la mano di cui parlavi se non ho capito un cazzo per ora vinciamo questo colpo 4 blind contro 5 blind su 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 tutti dentro tutti dentro che si prende il jack noi tutti dentro 10 10 5 5 fluidità 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 sono troppi house per poter vincere stamano i giocatori rimasti nono premio 221 ciao nazi ok all in ok all in doc game apre 2x con 13 blind da lì siamo contro tipo ass jack ass don k don e ragazzi si va fluidità 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 siamo usciti al purtroppo al pezzi massimi marciano 2-2 contro ass 6 ha chiamato l'olincona allora siamo 2-8 al big daily push diretta non so 2 no si god lo devo fare non so è un po' una gamblata tanto guarda qui ora secondo me è fold eh si è fold perché sono sotto due all in infatti nice fold nice fold nice fold nice fold nice fold pausette ragazzi ci vediamo tra poco per la cavalcata finale comunque stasera è una bella serata è una bella serata è una bella serata facciamo dei risultati è la terza volta che vado al tavolo finale del big daily me lo merito ad honorem via tra poco vado a svapare un pochino naz visto che sei in chat lo modifichi il titolo e ci metti lasci lì big daily metti 2-7 e poi metti deep run turbo week che metti una roba del genere 10 di 24 turbo week 21 6k al primo faccio io ma è che passa tre minuti se no un nuovo servizio di streaming dove trovare in un unico posto tutti i live in cui la musica abbiamo usato audio ed edifici playlist radio degli apposti live cover remix e tutto ciò a boh bisogna gambliare ragazzi assa 6 suite ed è un push apri fantastico tg o flatto assa 10 suite ed ip check ancora cominciamo contro 99 c**o 4 c**o 4 ok vedete perfetto 11 di 18 passo k la richmond pusher cioè spesso asso jack asso donna quindi andiamo ovviamente chiamo 18 blind asso jack fluido donato 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 ci sei donato donato ci sei donato si donato si donato si vabbè dichiarata spesso asso jack ha detto in alto al centro c'è una provabile eliminazione allassiamo 1 di 6 grazie resti in beer un altro eliminato il premio sale a 574 vi metto quattro tavoli perché c'è ecco la prima si ha floppato flash buon per lui all in anche a quell'altro e all in anche a questo fluidità ma no ma no ho perso con tutte e due ma che cazzo che cazzo limpa fantastic ti rimettiamo con asso 4 pusha e noi foldiamo dai però è di donato ma è abbandonato vabbè concentriamoci sugli altri dai che ci sono sempre jack 26 blind quindi i push come foldiamo all in all in lui ripuscia ha sempre la mano questo praticamente siamo rimasti in 4 all in guys boom 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 Sole deve chiamare 2-2 vinciamo la taglia sua 2 bounty rossa sì che c'è la rossina e c'è donato di là che mi guarda c'è donato c'è donato c'è donato assolutamente sì solo di 8-8-8 mai schiamato mai schiamato mai schiamato pieno mi danno 25.000 euro al mese per portare il marchio in giro faccio un clip pony ok 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 1 di 3 attualmente millino è in cassa 5-7 lo fordiamo ok 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 over cart io ho detto che trovare l'over cart ok via con la taglia E' vero. All in. Hm. Oh. Che dici? Che dici? Mi tengo le chips. E me li bullo. Tengo lui corto. Dai dai che lo buttiamo fuori. Di donato ci sei? Di donato ci sei di donato? Ci sei di donato? Si c'è di donato di donato è lì. Di donato è lì. Di donato è lì. Wow. Head's up. 1500 o 2003? Si. Che è questo? No. 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 ok guarda se c'ha il jack non penso che folderà e lo so ragazzi ma non c'ho il moderatore che mi fa queste cose lo faccio quando c'ho un momento libero 2 per raise ci penso ma guarda questo è imbattibile questo è imbattibile questo è imbattibile questo è imbattibile questo non è battito non è una non è un umano questo è un alieno è un alieno è un alieno ok lui è un alieno allora ragazzi facciamo così sono uscito 8-8 contro l'assass di lal mini daily allora aspetta che ve li sistemo un po' qui se stiamo iniziando a un video se stiamo iniziando a un video quindi devi vedere l'artist con un'ottima musica di nuovo e una semplice licenza che avviene tutto è l'artist è l'attività di musica per tutti i creatori Start now and find the perfect song Artlist, made for creators I think that the other one is stronger than you Sì 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 Perché mi concentro Sì 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 Dopo me lo spieghi per favore Sì 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 Un colpo abbiamo vinto Jack 5 la posso foldare 3 3 e mezzo per 3 e di donato se non mi dava una doppia coppia contro set era meglio ma anche io ero più felice Ok. 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 Grazie a tutti 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 Ma stai in chat Non te ne andai Dove sei scappato? Sei andato a un Polinesia In vacanza 2,9 Vabbè ma come me ne vuoi levare le chips? Sto facendo lì sperando che ti chiamo Non capisco Cioè non capisco veramente Non capisco che sono questi push da 30 blind Jack 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 me li walk Con la red mi vede le carte Limpiamo il range ma va benissimo di donato va benissimo così non è che ti posso spremere così tanto e questo continua con la sua strata di levarmi mezzo blind alla volta va bene stessi timing buonanotte di donato grazie del supporto e della mandami per favore via posta una tua foto me la metto qui davanti non sto scherzando anche di là siamo a premio praticamente ho fatto i tmu con questa sera 20.000 core 4 8 devo foldare un po' di tmu un po' di tmu che si tratta Allora se cercavo questa mano. Ciao meccanics, eh, deve essere bella barba la Polinesia. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Mai di lunedì, non lo so perché lo faccio, non ne ho idea. Me l'hai già chiesto 60 volte. Ti do annoia. Un po' è per sicuro di aver selezionato il tavolo. Le altre volte probabilmente mi aiuta la concentrazione, non lo so perché non me ne rendo neanche conto, capisci? Ora non pusha più, ora Razer. Quattro per. Andiamo! Wuuu! A. K8. E. 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 Grazie a tutti mixiamo un po' di raise con il limp Grazie a tutti su hita sempre questo slowly in di là ragazzi 13 blind un po' di raise con la mano ma dai, e che palio 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 Grazie a tutti. 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 Eccoci a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. e a tutti. 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 a tutti.